Iniezione di stima e di soldi per il Dipartimento di Neuroscienze dell'Università d'Annunzio Chieti Pescara. Nella recente pubblicazione della graduatoria dei Dipartimenti di Eccellenza italiani finanziati dal Ministero dell'Università e della Ricerca, ha confermato la sua posizione di assoluto prestigio, secondo posto a pari merito con quello della Sapienza, aggiudicandosi anche un importante finanziamento di 13 milioni e mezzo di euro. Un risultato importantissimo, conferma il professore Stefano Sensi, direttore del Dipartimento. Le neuroscienze ci permettono di capire esattamente come funziona il cervello, quali sono le fondamenta neurologiche di base fondamentali del nostro comportamento. Quindi ci interessano in maniera totalizzante perché ci interessano a sapere perché stiamo nel mondo, come stiamo nel mondo e come starci meglio. Siamo molto contenti di questo risultato, risultato di squadra di tutti i componenti del Dipartimento, che ci premia perché ci fa andare nei posti primissimi della classifica per le scienze mediche, quindi un grandissimo risultato. C'è anche un compenso finanziario importante, abbiamo appunto un totale di 13 milioni da spendere per i prossimi 5 anni per implementare le idee che sono alla base del progetto. Il progetto, la cui valenza è assolutamente pratica, tiene conto delle nuove frontiere della ricerca, che si servono anche dell'intelligenza artificiale per arrivare ad una medicina sempre più personalizzata. Solo gli strumenti dell'intelligenza artificiale ci permettono di riuscire a computare una mole di dati così imponenti, però ci permetteranno di fare terapie molto più efficaci, molto più mirate e probabilmente risolutive. Mi viene in mente anche la medicina di genere, può avere un interesse anche questo? Assolutamente, questo è un altro argomento molto importante. Prima, fino adesso, per molto tempo si è fatto di tutta erba un fascio, oggi sappiamo che soprattutto se proprio interveniamo sulle malattie neurologiche e psichiatriche del cervello, è chiaro ormai che c'è una suscettibilità diversa dei percorsi di malattie diverse per la maggior parte delle patologie neurologiche e psichiatriche fra uomo e donna e queste differenze devono essere colte, analizzate e appunto anche risolte.